Questo è il simbolo con il quale correremo alle prossime elezioni regionali, è il simbolo di Giovanni Totti presidente, è il simbolo della nostra lista, una lista di persone che hanno dimostrato con atti concreti il lavoro sul territorio portando a casa risultati importanti in cinque anni di amministrazione a guida appunto di Giovanni Totti. È un simbolo che vuole contenere il mondo moderato, il mondo riformista, liberale che in questo momento non trova una casa con la quale identificarsi. Unitevi a voi, questo è il futuro, questa è una lista che vuole competere alle prossime elezioni regionali con fatti concreti, persone serie al posto giusto.